Ciao a tutti. Che cosa fa l'Unione Europea? La seconda parte della presente pubblicazione illustra in sintesi le azioni intraprese della Unione Europea in 35 settori diversi. Vi sono fornite inoltre alcuni link utili che rimandano a informazioni più approfondite. Quindi vi invito nuovamente a cercare direttamente nel sito dell'Unione Europea. Azione per il clima, il Green Deal europeo. L'Unione Europea sta lavorando alacrementi. Alacrementi è una parola nuova per cui cerco sul dizionario perché questa io non avevo mai sentito. Alacrementi. Allacrementi vuol dire... Dov'è? Con due L? No, è allacrementi, scusa. Allacrementi. Allacre o allacre è un aggettivo. Vuol dire sollecito nell'operare. Allacrementi è un aggettivo sollecito nell'operare. Quindi l'Unione Europea sta lavorando sollecitamente nell'operare per ridurre le emissioni di gas serra, realizzare la transizione verso un'economia pulita, sostenibile e abbassare l'emissione di carbonio e affrontare le conseguenze inevitabili del cambiamento climatico. Con la sua azione per il clima, l'Unione Europea sta intervenendo in risposte al cambiamento climatico del pianeta. In particolare, l'innaussamento delle temperature globali dovuto a un aumento delle emissioni di gas a effetto serra, provocato dall'attività umana. L'aumento della temperatura media ha molte conseguenze, tra cui una maggiore intensità a frequenza di eventi climatici estremi, quali alluvioni, siccità e tempeste. Tali eventi non soltanto rappresentano una minaccia diretta per la popolazione, ma possono anche mettere a repentaglio la produzione alimentare e determinare una scarsità di acqua che a sua volta può essere all'origine della carestia, conflitti regionali e migrazione di massa. Che cosa fa l'Unione Europea? Per evitare che i cambiamenti climatici raggiungano livelli pericolosi, con l'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico, la comunità internazionale ha concordato che l'aumento medio della temperatura del pianeta deve essere mantenuto ben al di sotto di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, con l'obiettivo di limitarlo a 1,5 gradi Celsius. L'Unione Europea ha posto in essere una gamma di politiche e di strumenti atti a ridurre le emissioni e a favorire la transizione verso l'economia a base di emissioni di carbonio, mentre la sua strategia di adattamento promuove azioni quali la realizzazione di opere di difese contro le inundazioni, lo sviluppo delle culture resistenti alla siccità e la modifica delle normative edilizie. Evitare di affrontare il problema del cambiamento climatico potrebbe rivelarsi assai costoso per l'Unione Europea e per il resto del mondo. Al contempo, la crescente domanda di tecnologie pulite offre opportunità di innovazione, modernizzazione industriale, crescita e occupazione verdi. L'azione per il clima è ormai integrata in tutti i principali programmi di spesa della Unione Europea. Il 20% del bilancio della Unione Europea per il periodo 2014-2020 è destinato a iniziative connesse al clima. L'Unione Europea guida gli sforzi profusi a livello mondiale per combattere il cambiamento climatico. In particolare, spronano la comunità internazionale a mantenere l'islancio dato dall'Accordo di Parigi e ad attuare concretamente l'Accordo in tutto il mondo. Diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 costituisce contemporaneamente la sfida e la opportunità più grande del nostro tempo. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione Europea ha presentato il Green Deal europeo, il pacchetto di misura finora più ambizioso che permetterà ai cittadini europei e alle imprese di beneficiare di una transizione verde e sostenibile. Il sistema di scambio di quote di emissioni della Unione Europea è una delle pietre angolari della politica della Unione Europea in materia di clima e sta riducendo le emissioni provenienti dalle industrie, dalle centrali elettriche e dal settore di trasporto aereo all'interno dell'Europa in maniera economicamente efficace. Tutti i paesi della Unione Europea hanno inoltre definito obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni in altri settori quali i trasporti, la edilizia e l'agricoltura. Il sistema di scambio di quote di emissioni della Unione Europea è una delle pietre angolari della politica europea in materia di clima e sta riducendo però qua hanno sbagliato in pratica hanno stampato due voti allo stesso paragrafo quindi non rileggerò. Aprirò solo una parentesi che parla appunto delle strategie di adattamento dell'Accordo di Parigi del Green Deal europeo di diminuire entro 2050 diventare il continente con emissioni zero. Tutto questo è stato progettato è stato definito nel bilancio dell'Unione Europea dal 2014-2020. Allora, da un punto di vista il Covid ha permesso tanto è che ci sono state fatte delle materie giornalistiche dei giornali hanno pubblicato o quanti alcuni spassi dal momento che gli umani erano a casa si sono nuovamente rinati in tanti spassi il verde è apparto nuovamente gli animali selvatici si sono visti da alcuni punti di vista sì c'è stata un'economia di determinate risorse che a effetto a catena ha contribuito a diminuire le emissioni da altra parte se pensiamo in tutte quelle mascherine che abbiamo usato mi chiedo dove sono finite queste mascherine e rispondo molto probabilmente al mare quindi c'è un'incongruenza fra questa ricerca di cambiamento verde e le azioni poi coincidenza o meno la crisi energetica adesso il gas e tutto quello che oggi stiamo vivendo in prima persona diretto o indirettamente rimandano al raggiungimento di questi obiettivi quindi la domanda viene spontanea fino a che punto tutto ciò che sta succedendo non è stato programato a tavolino alla prossima